Parte la campagna di prevenzione della nuova influenza del Ministero della Salute. Alla presenza del sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega all'editoria Paolo Bonaiuti e del Vice Ministro alla Salute Ferruccio Fazio, l'iniziativa è stata presentata in conferenza stampa con un testimonio all'eccezione. Tutto gira, gira, tutto girano le giri biricoccole, coccole, lascia andare non drammatizzare ma sta pazza mi dico, coccole, coccole. Tra i suoi compiti quello di far capire che l'influenza A non è grave e che per prevenirla sono importanti alcuni piccoli accorgimenti come lavarsi bene le mani e cambiare spesso l'aria in casa.